La stampa del Torino, maltagliate allontana, Rizzitelli scatta silenzi, prova la conclusione che oggi festeggia la sua 200esima partita in Serie A, ecco lo inquadrato, lui che... Cercare qualcuno in area, Torricelli manca il controllo, il pallone Rizzitelli ...della difesa della Juventus, vedete Torricelli manca il controllo alle sue spalle Rizzitelli è il tempo di guardare l'uscita di Peruzzi, esplode di entusiasmo l'errore della Juventus, pessima esecutiva, buco nel controllo, non può nulla Peruzzi palla in fondo a sacco il Torino del primo tempo ...della Juventus nel dettaglio ci viene riproposto e ancora si apre la difesa della Juventus, Rizzitelli Ancora Rizzitelli a 2x2 con Peruzzi, piatto destro ...ma la Juventus concede ancora una chance clamorosa ai grandi... ...in cui la Juventus ha corso un rischio incredibile ballo ancora nel mucchio ed è il... ...al 20 mila raddoppio del Toro, su assist di Silenzi ancora abbastanza distrata in difesa, molto bravo Silenzi ...e troppo spazio a Rizzitelli, bravissimo ad inserirsi di testa ...anche del portiere bianconero direi... ...bravissimo Rizzitelli ...torino che torna in vantaggio, Ruggero Rizzitelli ...torino, Torino che recupera il pallone, ancora Rizzitelli ...46 Anglomà ...a dare indicazioni ai suoi giocatori adesso lo richiama a Mendolia mentre noi rivediamo il gol di... ...lotta Sogliano alla meglio Rizzitelli, grande Toro in questa fase va Rizzitelli sulla... ...Anglomà-Rizzitelli in due su di lui lo chiude Paolo Sousa va a triplicare anche il momento di Anglomà è partito da solo, in ritardo Pelé al centro 17 minuti nel secondo tempo, Torino 3 Ruggero Rizzitelli, una doppietta per lui e l'assist per Anglomà molta fortuna nella conclusione